Martillotti sarà ancora una volta la capitana della libera Mirtus Volley per lo storico campionato di Seghe B1 2017-2018. La notizia è che non è stata confermata dalla società, è stata data in maniera informale dal sindaco locale e metta in un incontro proprio con i dirigenti della società virtussina e quindi nelle prossime ore si andrà con gli altri volti nuovi o anche eventuali riconferme della squadra che disputerà appunto il prossimo campionato. L'altra novità arriva dal basket, il primo colpo di mercato della Castellano Udas e la riconferma dello storico capitano Gianluca a 13, l'ala napoletana che si è fatto apprezzare per carisma e determinazione durante tutta la stagione ma anche persona sensibile fuori dal campo e di certo questo è un vantaggio. Dunque è a Selli che andrà a mettere in evidenza a Gigi Marinelli per la squadra che disputerà uno storico campionato di Seghe B. Cominciamo piano piano ad essere noti.